la ricetta di oggi saranno questi muffin con tutti ingredienti sani e sono veramente gustosi sono contentissima di averli fatti e mi sa che li farò molto spesso perché sono veramente veramente buoni quindi vediamo come fare in una ciotola ho aggiunto due uova e tre cucchiai di olio di cocco anche del miele tutti gli ingredienti ci saranno nel primo commento zucchero di canna integrale e anche due bustine di stevia mescoliamo il tutto e lasciamo da parte in un'altra ciotola aggiungiamo il lievito farina di avena cacao in questo caso senza zucchero mescoliamo e siamo pronti per unire il tutto manca un solo ingrediente che il cocco in questo caso disidratato li darà il tocco speciale usciranno quattro muffin se volete di più raddoppiate le quantità per ultimo sto aggiungendo un po di cioccolato in pezzettini questo andrà al forno a 180 gradi per 15 minuti ed eccoli qua pronti con un profumo buonissimo seguimi per altre ricette grazie 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 grazie